Andiamo a vedere in questo video come di fatto si svolgeranno gli esami di terza media proprio all'atto pratico, cosa succede agli studenti. Quindi gli invalsi sono il primo step e si svolgeranno ad aprile. Se volete un approfondimento su questo topic in particolare scrivetelo nei commenti. Il giorno dell'esame invece, partiamo, primo giorno dell'esame sarà ovviamente una volta completata la scuola, di solito uno, due, tre giorni dopo o comunque nell'arco della prima settimana dalla conclusione delle lezioni. Primo giorno tutti gli studenti sono fuori da scuola, si affacciano di solito la preside, la vicepreside, che fanno l'appello, l'appello appunto delle commissioni. Di fatto le commissioni coincidono con le classi di appartenenza. Gli studenti vanno appunto raggiungono la loro classe, viene fatto il controllo che siano tutti presenti, ci sono gli insegnanti a controllare le prove e si dà il via. Seguite con attenzione tutte le indicazioni degli insegnanti per quanto riguarda i fogli, le penne da usare, i colori e appunto i tempi, soprattutto l'inizio dell'esame, la fine della prova eccetera. Lo stesso meccanismo avviene nel secondo e nel terzo giorno. Siete più rodati, quindi siete più tranquilli, di nuovo accompagnati in classe, di nuovo supervisionati sostanzialmente da un gruppo dei vostri professori. Il numero non è preciso, perché possono esserci tre, quattro, dipende, e finiscono quindi le prove orali nell'arco dei primi tre giorni. Dopodiché c'è una pausa di solito di un giorno, se le commissioni sono anche molto veloci, solo mezza giornata. Dopodiché partono gli esami orali. L'orale avviene quindi dopo gli scritti e dopo gli scritti non è più come per lo scritto tutti insieme, ma verrete divisi, gli studenti verranno divisi in blocchi in modo da essere interrogati durante i giorni successivi, per forza tutti entro il 30 di giugno. Entro quella data dovrà essere completata tutta la procedura dell'esame di terza media. Chi c'è durante l'orale? Allora, l'orale viene appunto stabilito l'ordine, quindi chi va appunto in ordine di solito viene estrata una lettera e quindi poi si procede con l'ordine da quella lettera. Per esempio viene estrata la lettera P, quindi chi ha il cognome con la P, poi Q eccetera eccetera e l'ultimo quindi sarà chi ha il cognome con la O. C'è in ogni commissione d'esame un presidente di commissione. Di solito, ma non è così in ogni caso, il presidente di commissione è il professore, la professoressa di italiano, storia e geografia, oppure di matematica e scienze, ma può anche essere presidente di commissione, insegnante di arte, di musica, non è obbligatorio. La commissione è composta quindi da sostanzialmente tutti i vostri insegnanti, quindi circa 10-12 insegnanti e tutti gli insegnanti possono fare domande collegate alla tesina, non importa se non direttamente collegate alla loro materia. Quindi se io sto parlando di storia ma vuole intervenire l'insegnante di inglese può benissimo farlo. Quindi si svolge l'esame orale, ho fatto già sul canale dei video, se volete scrivetelo nei commenti, faccio degli approfondimenti ulteriori. Si svolge quindi l'esame orale, al termine della parte orale vi vengono mostrati gli iscritti, di solito vi vengono detti i voti, può essere che non vi vengano detti, potete chiederli e si conclude l'esame orale, venite salutati. La commissione di solito si riunisce circa 4-5 minuti prima di far entrare il candidato successivo per in qualche modo stabilire il voto dell'orale, che però voto dell'orale gli studenti non lo conosceranno. Potrebbero appunto, se chiedete i voti, conoscere i voti dei singoli iscritti, non avrete il voto dell'orale, avrete il voto complessivo. Questo era a grandi linee cosa succede all'atto pratico i giorni dell'esame. Se volete degli approfondimenti scrivetelo pure nei commenti.